allora oggi facciamo un soggetto di un'architettura questa è la foto una foto scattata da una corsista che si trova a cittadella nel dov'è nel trevigiano nel trevigiano e qui lavoriamo lavoriamo sull'architettura un ponte e i riflessi nell'acqua quindi questo è il soggetto io ho fatto la mia pianificazione questa è la pianificazione scusate se treme dove ho fatto tutto lo schizzo con le le cose fondamentali quindi le linee di prospettiva le varie finestre che possono esserci il riflesso nell'acqua l'ombra i colori che voglio usare l'ho scritto e anche qui ho scritto il colore che voglio usare e riflessi nell'acqua fatto questo questo serve proprio per interiorizzare il soggetto e per in un secondo momento non andare in tilt quando lavoriamo con i colori quindi questo solo lo chiamiamo imparaticcio giusto quindi una cosa di prova dopodiché ho riportato il tutto sul mio foglio di acquarello 300 grammi fabriano satinata e questo questo schizzo riportato ha veramente solo le cose più fondamentali quindi le linee di prospettiva il posizionamento delle finestre senza fare tutte le finestre il ponte il volume dell'acqua del riflesso e basta vuol dire che io dopo quando faccio l'acquarello sono estremamente libera nell'azione iniziamo con l'acquarello se avete domande potete farle non c'è problema quindi la foto suggerisce giallo o un colore caldo un colore freddo e io spesso faccio il contrario quindi mi prendo questo colore e lo porto all'esterno del soggetto quindi ho scelto un colore caldo e lo portiamo nel cielo ho dovuto inventare qualche elemento che sulla foto non c'è però ci sta bene quindi è sempre architettura qui abbiamo un piccolo elemento di vegetazione un albero e lo lascio in negativo sembra un soggetto molto difficile invece è estremamente facile i fiori sono molto più difficili quindi sto lavorando all'esterno del soggetto lasciando dei negativi qui ci saranno già dei riflessi nell'acqua anche del cielo e vedi che inizio al contrario non inizio a riempire dei volumi quindi il volume che vedo ma inizio all'esterno riesci a vedere bene Roberta inizio già a portare il colore del cielo anche nell'acqua quindi se hai un soggetto anche o l'albero o la casa o anche il ponte non è importante che iniziamo a dipingere tutto dentro possiamo anche uscire dal soggetto anzi meglio e non cambiare il colore ogni momento che c'è un'altra cosa nel senso che anche se il colore del cielo mi entra un po' nella nell'architettura è meglio è più bello quindi ho solo fatto l'esterno per adesso do un po' di movimento nel cielo l'acqua finisce lì ok iniziamo con le finestre quindi per adesso era facile o no? no? teoricamente prendiamo prendo un colore neutro adesso tinta neutra vuoi vedere? tinta neutra che è questo grigio colore melanzana ok e inizio a dare proprio dei piccoli elementi finestrosi guardo la foto ce ne sono più lontano sono nel mio soggetto più piccolo è l'elemento più mi avvicino più l'ingrandiamo qui siamo lontanissimi vuol dire piccolissimo qua in fondo piccolo piccolo non è neanche più finestra è solo un'ombra qui iniziamo a diventare già più grandi guardo sia lo schizzo che la foto abbiamo prima queste finestre piccole poi quelle un po' più grandi che giustamente seguono la linea prospettica quindi vuol dire che qua su vanno in questa direzione e qua sotto un po' più diritte e ci sono le persiane chiuse? sopra sono aperte e sotto chiuse qualcuna è un po' aperta finestra persiane questa è la finestra aperta e tengo però la direzione della prospettiva e qui non ho bisogno di fare la finestrina bella carina ho bisogno di dare l'insieme dell'idea ok questa è aperta seguo seguo piccolissima più piccola un po' più grande e non la faccio tutta faccio dei pezzi che ricordano elementi di finestra chiusa poi se c'è una chiusa tu la fai aperta non è così importante basta che dentro la superficie facciamo degli elementi di finestra ok ok adesso ho bisogno di un po' di mettere iniziare a mettere insieme e vado nella parte dell'ombra ancora però solo nel ponte per adesso sempre con il grigio tinta neutra lascio volutamente delle zone vuote che sono tipo zone per prendere un po' di luce adesso qua è già asciutto posso iniziare a velare scusate ancora la voce sono stata un po' malata tonto quindi lascio pure del tipo punti di luce all'interno puoi respirare se vuoi ok inizia a fluire quello che vogliamo e anche questa parte è molto nell'ombra quindi la faccio proprio scura per adesso qui c'era un tetto e qua portiamo fuori quindi qui un po' meno definito perché siamo all'esterno qui posso avere un problema perché si è si è fermata l'acqua la no quindi prendo e porto giù porto giù e raccolgo meglio così così lo vedi meglio abbiamo fatto le finestre adesso sono ancora belle rigide sono lì più tutto il muro è bianco quindi si sono un po' assestate e velo un pochino c'era un po' di blu perfetto questo qui ti dà proprio l'effetto della lontananza questo c'è e non c'è quindi non è delineato anche qui rompiamo un po' la superficie però vedi era necessario che prima entrasse un po' nella carta no? se no diventa se lo lascio così per me sarebbe troppo rigido se il pennello è pulito è meglio nel mio caso mi ha dato un po' di blu che però mi piace anche ci sta è importante che questo lavoro qui lo fai dopo un po' nel senso non subito andare sopra con il pennello ok e qui ho le belle tornate alla fioritura adesso è un po' così sognante no? lo riprendiamo con la velatura lo concretizziamo dopo ok ho lo scuro qua dentro però lascio un po' di bianco nella rotondità e poi dobbiamo alzare l'acqua perché l'acqua va fin qua su questo dopo lo velo la luce cielo cielo riflesso delle case giusto? correggetemi se sbaglio cielo cielo case e cielo contrasto quindi ho questo forte contrasto tra qui dove c'è tanto pigmento e qua dove ce n'è pochissimo allora però qui dobbiamo dare la sagoma delle case queste qui e qua e qua lo sfumo questo qui è un po' duro nel senso possono succedere delle cose che strada facendo puoi dire ah c'è qualcosa che non va lo possiamo correggere è un po' duro lo ammorbidisco l'importante è che non mi chiudi tutto che non mi chiudi subito tutte le superfici vuol dire entro riempio entro riempio lasciare dei vuoti l'acqua va i riflessi sono anche qua anche del cielo qui c'è una linea molto nitida della casa e qua sotto c'è l'acqua no? il riflesso quindi inizio a bagnare salute è il momento bagno vedi che qua lascio un po' di vuoti in corrispondenza alle finestre poi abbiamo detto che questa linea questa di prospettiva non la vogliamo troppo in piedi quindi la raddrezzo un po' ok poi gioco sempre acqua colore acqua colore e quello che mi piace sono proprio questi effetti che poi crea l'acqua con il pigmento lo crea da sola vedi qua non ho fatto niente io questo bagno qua sotto qui è proprio l'acqua che fa il suo lavoro adesso cerco in corrispondenza di dare delle zone più scure rispetto alle finestre qua sopra quindi prendo lo stesso colore tinta neutra e abbiamo qua sotto c'era un'altra oscurità quindi c'è anche qua quindi qui c'è l'intermedia e qui così no? che si corrisponde qui c'è quella piccolina piccola più grande e più grande è difficile? o è facile? un pochino fino adesso è facile no? per te non solo per me anche per voi piccolo piccolo adesso c'è questa finestra che è più grande riporto solo un po' di scurezza poi c'è quella che è più grande è qua sotto quindi non mi metto a fare le finestre mi metto a fare solo la tonalità scura l'ombra brava quindi qui senza riempire tutto come vedi i dettagli li facciamo con asciutto su asciutto do un po' effetto acqua qui c'è un albero com'è? è vuoto? è un po' giallo e verde è giallo e verde ma qui è vuoto no? sì perché non l'ho riempito abbiamo detto che non riempiamo tutto che lasciamo le superfici anche vuote per adesso è così l'effetto se vuoi fare un piccolo zoom Roberta così che vedono quindi non c'è niente di definito quello che è definito sono solo i vari volumi anche questo qui per me è un po' troppo quindi lo lo vedo per adesso nell'umido lo tiro un po' poi abbiamo imparato che le finestre le definiamo dopo qui dentro lavoriamo su asciutto ti piace questa fioritura lì? ti piace? no neanche a me però è successa quindi prendo il bianco e la tolgo la tolgo un po' nell'umido la puoi togliere ma sotto ti rimane l'acqua come? ti rimane l'acqua sotto ma dà un bel effetto però perché sembra proprio un riflesso però è tolta adesso non c'è più poi mi ero fermata all'albero abbiamo detto di che colore era? di che colore era? giallo giallo ok si riflette nell'acqua un po' quindi è giallo e verde qui è un po' asciutto ok ho lasciato il vuoto adesso facciamo la bugginata che cos'è? che ho un vuoto con una forma scelgo un colore vedo che qui non è ancora del tutto asciutto dovrei farlo dopo però lo facciamo adesso dai mi butto rischio rischio quindi ho un vuoto con una funzione quindi albero vado sopra sono quegli effetti quindi ce l'ho lì qui finisce il ponte questo è il bello dell'acquarello quella trasparenza ecco io mi fermo fin qui ci fermiamo è la fusione guidata una volta asciutto facciamo i dettagli ma dopo mi muovo anch'io ok ci siamo? ha già schiacciato? ok allora adesso vediamo questa è la fusione guidata adesso vi faccio vedere alcuni passi sia agli videospettatori che anche a voi alcuni passi di finitura che poi quei passi di finitura che faccio adesso poi è vero per tutto il quadro non posso farli vedere per tutto il quadro perché prende tutta la giornata più o meno alcune ore almeno quindi ho questa fusione guidata e c'è quello che è il suo intento che vuol dire metto tutto insieme metto insieme il quadro però allo stesso tempo perdo alcuni elementi ho perso le finestre ho perso un po' la struttura del ponte forse qui ho perso un po' di tetto eccetera ok quindi è asciutto e su asciutto posso andare a lavorare con le velature esempio ho perso questo pezzettino di tetto adesso ho preso il colore più denso vado a marcare il mio pezzo di tetto lavo il pennello e lo sfumo e già mi torna la linea molto nitida del pezzettino che ho perso adesso si vede molto meglio lo vedete? date un conforto ho perso quel pezzettino di muro qua muro e cielo prendo di nuovo il colore denso do la mia linea abbiamo già meno acqua adesso do la mia linea lavo il pennello e lo sfumo e lo sfumo lo giro così e vedi che è tornata bene questa linea che prima non c'era ho perso tra questo muro e questo muro non c'è più differenza vedi? faccio la stessa cosa quindi adesso se prima era un lavoro di getto adesso è un lavoro di riflessione di più quindi metto ordine a quello che ho perso quindi ho perso muro e muro scusate devo rigirare il foglio do la linea un po' più su asciutto do la linea lavo e sfumo ed ecco che è tornato anche quel muro molto meglio di prima adesso si vede prima non si vedeva ma l'intento è proprio quello che se facciamo la fusione guidata ti tiene tutto insieme la velatura definisce ho perso la finestra la metto e ho già un sotto ho già il sotto che tiene questa velatura vuol dire che ho un supporto sotto ho perso anche qui tra questo muro e questo muro non c'è più definizione stesso procedimento colore più denso prendo la mia linea oggi sono anche un po' più su asciutto come colori uso sempre gli stessi che ho già usato e sfumo quindi la linea più nitida e quello che è sotto rimane comunque visibile e la trasparenza rimane ok idem qui tra questo e questo non ho differenza no e anche le finestre sono sparite quindi ho questa il sotto che mi mi supporta do la mia linea e do la mia linea e ho già caratterizzato di più la finestra o anche qua e qui c'era un portone e vedi se facevo solo questa pennellata nera sarebbe sembrato un buco però con questo supporto della fusione di prima è già molto più integrato adesso corrego questo muro qua do la linea diciamo che questo lavoro è un po' meno divertente il primo è più divertente questo qui è un po' più esecuzione esecuzione sì fare insomma ecco e sfumo e anche qui vedete muro muro ma non è il tipico muro che riempi perché deve riempire tutto qui ho perso il tetto quindi tu vai alla ricerca del della tua macchia del tesoro nella macchia che sono queste quindi devi un po' parlare con il tuo quadro e se qualcuno poi ci vede che parliamo col quadro ok ci fa internare ok e anche qui vedi come esce il tetto adesso ok quindi è tutto lavoro di tirare fuori il soggetto nel secondo momento facciamo anche una finestra era quella aperta qui qua su abbiamo solo un pezzettino colore sempre uguale finestra non tutta era quella aperta e vedi che questa sfumatura che abbiamo fatto prima come si integra molto bene con la pennellata che do adesso visto fai un zoom e qui potete stare seduti invece che in piedi può stare seduto è un po' più comodo ed ecco che anche quando all'inizio hai paura perché dici ma lì c'è solo la macchia non fa niente perché questa macchia la vai a definire con una velatura e quindi sei molto più sereno adesso rispetto a prima giusto sì o no sì stavo pensando al lavoro delle finestre fatto che invece stiamo lavorando dentro stavolta questa volta stiamo lavorando dentro perché perché è bianco il muro sì perché abbiamo deciso la parte chiara perché sennò coloravo tutto il muro e in questa fase della velatura puoi fare tutte le correzioni che vuoi ok qui c'era finisce l'edificio no finisce l'edificio e qui inizia l'acqua e qui c'è il riflesso del 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 ponte ok quindi devo anche un attimo riorientarmi ho perso il ponte questo pezzo sì lo rimetto oggi sto lavorando con poca acqua era per la nebbia magari quindi ho perso il ponte do la linea e sfumo qui abbiamo riflesso abbiamo detto che sulla foto è scuro questo riflesso sulla foto vedi che è scuro e giustamente lo faccio al contrario quindi lo faccio chiaro vuol dire che uso questa macchia do il suo riflesso intorno con lo stesso colore del cielo no e sfumo qui ho perso un po' come dire dove c'è lo scuro del ponte colore denso e lo metto qua fuori quindi la velatura è quello che ti definisce il tuo soggetto con calma senza fretta vedi quindi se prima eravamo un po' presi dalla velocità adesso siamo presi dalla lentezza mi sono espressa bene sì siamo lenti come una lumaca adesso adesso siamo accurati sì accurati e puoi guardare tutti i dettagli del tuo soggetto vedi così riprendi anche se magari prima abbiamo perso che andava in giù il ponte così lo riprendiamo qui ce n'era un altro un altro arco faccio così per la videocamera così si vede un po' meglio vedi bene Roberta sì ok però ci stiamo capendo no quello che intendo o no sì ok anche qui c'è la rotondità sotto prendo lo stesso colore uso questo bianco che c'è già e do la sua rotondità e questa è la velatura no che quindi ti rende anche tutto molto trasparente da fastidio questo quadrato dopo vedo come magari faccio uno scuro da un po' fastidio ok torniamo nel nel tetto qua sopra abbiamo tutti gli scuri no quindi adesso è bianco e abbiamo queste linee così che danno l'idea del sottotetto fatele più diritte possibili non in piedi quindi così più diritte possibili interrotte poi queste finestre è lo stesso metodo di qua ok e qua anche qui un po' così poi c'è l'ombra qua sotto sì quella la facciamo quando queste linee si sono riasciugate ecco il tiro fuori un po' quindi linea che definisce sfumatura e prendo sempre il grigio la tinta neutra o comunque lo scuro che abbiamo usato sì lo stesso allora questa pittura così è un po' più didattica perché sto facendo il video se no sono un po' più selvaggia quando faccio di nascosto ok faccio più buginate ok edificio allora adesso qui non vado avanti perché mi prende troppo tempo però il metodo è questo edificio qui finisce l'edificio qui c'è l'acqua do già una fine di questo edificio all'inizio dell'acqua sempre con un colore che ho già usato nella direzione di prospettiva abbiamo detto quindi qua la do molto nitida per far capire che lì finisce l'edificio era così no? però è proprio diritta quelle cose troppo diritte lo sapete non mi piacciono molto quindi intanto la sfumo giù e un po' dentro perché no? perché se no è troppo linea diritta ok quindi come vi ho fatto a vedere questo pezzettino continuo qui qua e qua sotto grazie è Grazie a tutti.